Questa interessante opera di Diana Lemnaru è una tecnica mista del 2021, sentito La fiore celeste. Effettivamente andando alla ricerca tra i tanti elementi che affollano la composizione si possono individuare anche con una certa facilità degli elementi floreali appunto dei fiori. Però c'è anche tanto altro, ci sono delle geometrie, ci sono dei segni, delle sfumature, delle pennellate, dei gesti, c'è tanta sperimentazione, c'è collature di colore, c'è veramente molto che testimonia un percorso di crescita, di evoluzione di quest'artista che potrà sicuramente riservarci delle belle sorprese anche nel prossimo futuro.